in Italia ogni organizzazione ha il suo territorio però è pienissimo tu oggi andranno anche da milanesi origine calabrese allora ecco questa provocazione noi non l'accettiamo perché la Lombardia c'ha Varese, c'ha Sondrio, c'ha Como c'ha Lecco, c'ha i laghi c'ha il panettone, a te piace? ti piace? è certissimo non è razzismo va bene è venerdì e già lo sai la morbidezza la coglierai su YouTube e su Spotify basta che me mi play cashplay podcast un podcast morbidissimo benvenuti ad una nuova puntata di cashmere un podcast morbidissimo c'è il suono della cometa è nato? è nato? è nato? ma cosa dici? non so cosa è nato qualche giorno fa ma per caso stai parlando di cashmere summer tour? il film è nato signori è nato cashmere summer tour il film il meglio del meglio del tour che abbiamo fatto dal vivo nell'estate del 2021 è live ed è online adesso ha il link qui sotto Tahir me lo fai apparire magicamente lo disegno così con le mie dita ma mettilo sotto anche in descrizione lo trovate anche in descrizione ma anche fra il primo dei commenti pinnato in alto pinnato in alto ma anche nella bio di Instagram ma anche nella bio di Instagram ma forse anche su Facebook lo condividiamo anche su Facebook e solo per questa occasione ci riaccendiamo pure che cazzo ci sta che ne so MSN Pinterest lo mettiamo anche su Pinterest lo trovate ovunque lo mettiamo su C6 quell'antica chat che è una delle prime in Italia lo mandiamo via SMS a tutti i parenti via MMS alla vostra zia con cui avete litigato a Natale sapete come ci fate pace ci vedete insieme lo special di Cashmere e lo mandiamo pure via e-mail anche con l'e-mail signori lo trovate ovunque il nostro modo di passare le feste insieme a voi a nostro meraviglioso pubblico adesso è inverno ma noi vogliamo riportarvi nella grande estate morbidissima perché è l'estate non è una stagione è uno stile di vita signori ci piace dirlo ogni volta scaricatelo vedetelo da soli in compagnia con la vostra fidanzata fidanzato con chi vi pare fatevi questo regalo fate questo regalo alla Cashmere Family sosteneteci per un nuovo anno morbidissimo siamo felicissimi di essere sempre con voi e un saluto anche agli altri protagonisti di questa puntata dallo studio Carmelo avanzato ciao ragazzi quando avete nominato la cometa mi sono ricordato che probabilmente sono l'unico qui dentro che ha visto la cometa di Alley sì abbiamo anche visto un tuo video ah no aspetta la cometa di Alley ma non era la cometa febbraio 86 ah vabbè grazie a te febbraio 86 febbraio 86 i nostri genitori erano impegnati in un corteggiamento come i pavoni guarda qua guarda cosa ne è venuto fuori mancano le palle di mio padre stavo io ecco buongiorno Tahir Usain che bel modo di augurare il buon Natale a tutti vabbè palle Natale e facciamo un saluto anche a Cecilia Attanasio ciao a tutti ciao a tutti buone feste quest'oggi sola sul divano perché Alice è già a Catania è già nell'isola Trinacria la famosa però la quota siciliana è stata rimpiazzata anche quest'oggi da Gaetano amore ciao Gaetano da Caltanissetta così quelli che contano il numero di volte che diciamo Caltanissetta come stai come stai sto bene sto bene per quanto sì insomma a Natale dovremmo essere tutti più buoni ma mi sembra che invece in Italia ma sai che nemmeno con noi le persone no no gli haters non si fermano mai non si contano più gli odiatori non conoscono stagione e clima l'odio esatto l'odio va bene per tutte e quattro l'odio vince sempre sull'invidia e sull'odio come deve dire il maestro che dobbiamo fare ragazzi purtroppo oggi è dove vai vai è un bagno di sangue su internet e ci sono varie filosofie c'è quella dello sbatterse completamente sì quella del rispondere a tutti i commenti che ti fanno dicendo niente perché di fatto un commento è comunque tendenzialmente poco sono parole all'aria la persona è nulla l'offesa è niente guarda perché verba volando scrivita amane ma purtroppo su internet verba amane questa fase ma quanti ne abbiamo ricevuto anche per cashmere anche per cashmere podcast ma in realtà visto tutto il nonnismo e mi fate io ogni sera mi metto l'account finti faccio tutti i commenti negativi dente giallo e poi si va a letto ma quali account finti sono tutti parenti dal pakistan quelli certo ovviamente non sanno l'italiano tutti i hanif kureishi che scrivono quanti quanti attacchi ha detto dente giallo dente giallo stempiature e non va bene e non va bene il capo e la barba e luca parla poco e la voce basse e la voce alta avete parlato sopra l'undini avete fatto quello non fate mai vedere le donne fate parlare le donne ma quanto vi ho difeso ma quanto vi ho difeso guarda in effetti se uno potessi assumere un Tahir per rispondere a tutti i commenti che ti scrivono sarebbe un mondo migliore Mike Tyson ha scritto ultimamente Mi dà fastidio Ora non ricordo precisamente Però ha detto sono incazzato Perché per colpa di internet Dite queste cose mentre invece per strada Vi sareste presi un pugno in faccia Ha detto meglio ancora Dicendo la gente Offende così tanto su internet Ed è disabituata all'idea che se dici queste cose Dal vivo ti prendi un pugno in faccia Facchinetti ci ha provato Facchinetti infatti erano lì da Conor McGregor Anzi che lasciarti un commento su youtube Te lo dico subito Hai un jab che non mi piace molto Ti è mai venuta voglia di Rispondere a tono Se non prendere A destri qualcuno che ti ha scritto Sotto dei pezzi infatti A tono mai Tu li leggi soprattutto i commenti su youtube Su youtube meno Su facebook quando ho caricato pezzi che sapevo Che avrebbero generato Però se ci stai Sei anche tu parte della cloaca Quindi Io non rispondo mai a tono Rispondo sempre nell'unico modo Che mi ha insegnato la mia mamma Cioè con educazione Perché non c'è nulla che spiazzi Later più dell'educazione Più è forte l'offesa Più ti dici Farò consigli Farò tesoro di ciò che hai detto Esatto esattamente Grazie mille per il consiglio Cordialmente Luca Filippo Che come firmo Quando mi girano veramente i coglioni E quindi più o meno faccio questo Io ho fatto un pezzo Sulla mamma Novax A settembre uscito Non ho mai ricevuto così tanti insulti Da gente che era Novax Che diceva Speriamo Pensate che cazzo di erzigogolo Spero che tua mamma muoia Così non dovrà sopportare Il fatto di crescere Vedendo un figlio coglione come te Questo l'ho letto e ho detto Ma perché voglia hai di scrivere una cosa del genere Tanto tutto un controsenso Così cosa Mentre quando Quando Io mi chiedo sempre Quando si scrivono i commenti cattivi Dopo il caffè Sai quando? Dopo il caffè Sul cesso Sul cesso Insulti qualcuno Aspettando il 9.13 alla fermata Tu stai lì Cinque minuti Fammi scrivere questa bella frase E poi arrivi E poi si va Però non sai che dall'altra parte c'è qualcuno Che legge Che legge Perché internet non solo scrivi Ma qualcuno poi legge Che qualcuno legge Io non so se qual è la policy adatta Io cerco sempre di leggere Di leggere poco Perché penso che poi non ne trai mai Quasi nulla di buono Cioè non è vero Cioè non Non capita quasi mai Che poi hai dei suggerimenti Che possono diventare costruttivi Ogni tanto Ogni tanto succede Sì ma mai Non è un hater Non è un hater Non è un hater È una persona educata Magari è una persona che ti scrive privatamente E lo leggi No ma lo scrive nei commenti Educatamente Senza odiare appunto Però l'hater È un Un elemento prezioso Perché il fan Te lo guarda una volta L'hater Quando è un hater Vero Quindi non solo uno Che arriva una volta Sta là Proprio con l'odio E si va a vedere Tutti i tuoi video Ti insulta sotto A tutti i tuoi video Quindi in realtà Magari Magari si vedesse Tutti i tuoi video Quindi grazie Molto spesso è uno che passa al volo No Molto spesso è uno che passa al volo Ha letto una tua frase Completamente decontestualizzata Però non è un hater Quello L'hater vero È quello che sta sempre là E ti critica sempre Maniaco praticamente Vabbè ma non sono tutti maniaco Anche John Lennon Non ne aveva uno Una volta Io li scrivo E poi li cancello Prima di inviarli Perché illudo la mia mente Che l'ho fatto Anche tu Ecco Esatto Anche a me capita Questa anche è una È una pratica Io mando le foto a Luca Quando faccio questa cosa Parliamo di noi Parliamo delle colpe Sei mai stato un odiatore Allora Hai odiato Ma vabbè L'odio è un sentimento umano L'odio è un sentimento umano Ci sono delle situazioni In cui io impazzisco Ma non so perché Sono cose irrazionali Io odio le persone Che appena atterra l'aereo La prima cosa che fanno È quella di alzare Ah Io condivido molto questa cosa Così sotto la cattelliera Vero Sì Un'ora e un quarto Fermi così E a me Mi danno fastidio Fisicamente Madonna Ma come mi irritano È vero Cioè ma Perché Che bisogno c'è E rilancio Rilancio Con una cosa molto simile Io odio Le persone che tagliano la coda Quando si deve andare a pagare Al bar Un caffè Quando si deve pagare un drink Non abiti nel paese adatto No È purtroppo Non dire tagliano la coda Che tagliano C'è la coda E tu vai dritto E te ne sbattis la coda E gli dici Scusi c'è la coda Ah scusi Non l'avevo visto È una mancanza di rispetto Che mi manda in tilt Completamente Fare le code Bene Farle serenamente E qui si sente Qua si sentono i longobardi Mi dà molto fastidio C'è C'è la macchina Quando magari stai Stai tutte a sinistra Perché Là si svolta a sinistra Il Bastardo Figlio Che se Quella macchina esplode Davanti a me Compro un locale Sta a puttere le bottiglie Ce la ridici Senza quella parola Esatto Senza quella parola Ce la puoi ridire No bippo Bippo Tanto Va Ti passa a destra Ti passa a destra E poi mette la freccia a sinistra Non capendo che così Si crea il traffico a Roma Dovrebbero fare Proprio per questo Visto che nessuno ha più il coraggio Di dirsi le cose addosso Su Waze Una possibilità di insultarsi Tra automobilisti C'è la chat Ah già c'è Se quell'altro a Waze Tu gli puoi scrivere Ah gli puoi scrivere Lo puoi insultare E io solitamente Li invito sempre alla chat E non mi rispondono mai Ma c'è tutto questo Mentre stai guidando Eh sto in coda E starò in coda ancora in più Allora Metti il nome L'account di Instagram Sul dietro Così posso andare a cercare Un bombardo casa così Pezzo di sciocco E no Dicevo Tu invece Chi è che odi Quali sono le categorie che odi Eh l'ho detto prima Cioè quelli che fanno le Ah eh Tendenzialmente i turbobasti Ancontrari In particolare sulle opere Sui film Sugli altri Cioè tipo un film amato Da tutti È successo ultimamente Con un famoso Il film di Sorrentino Certo È stata la mano di Dio Certo Esatto C'è un Multiprofessionista Perché fa molte cose Ha scritto una Una critica Non centrata E l'hanno riempito di insulti Quindi a volte si ribalta E poi si ribalta E certo Perché non è che si può sempre Siamo tutti anche un po' odiatori L'odio è l'altra faccia dell'amore È vero È vero Ma infatti un po' Chi disprezza compra Ti è mai capitato di odiare Qualcuno O qualcosa però Di volerlo In realtà Sempre Io Assolutamente Quando mi senti dire di qualcuno Ma quello pezzo di merda È perché Riconosco che ha qualche qualità Che io vorrei avere O la esprime in modo molto migliore Rispetto a me Quindi assolutamente Sì certo Una quotidianità serena Una quotidianità serena fra tutti Cioè Edo se prende un aero Sgozza qualcuno Sì certo Nel coso del prossimo cliente La mette lì Quelle persone lì Cioè Quei l'ansia di vivere Viviamo in due quartieri diversi Quel senso di A San Lorenzo è diverso Fai come ti pare Mi sono scordato tutto Non ti preoccupare Quindi tu accogli il conto tuo Alla vecchia pensionata E ti prendi queste Poi chiacchierano con le tipe della cassa Comunque i venditori porta a porta Non mi fanno bestemmiare Perché loro hanno una tecnica Evolutissima E io La mia controtecnica L'ho evoluta allo stesso modo Quindi So tutto quello che devo fare Ad esempio Loro Voi due a letto con la sigaret Com'è che ogni volta Finiamo a letto io e te Come mai succede sempre Adesso io e te Che cosa siamo Vanno via sudati E il meglio lo do Quando c'è quello che viene formato Quando vengono in due Faccio gli occhiolini E quello che deve essere formato E distruggo il boss Oddio quanto non vorrei essere Per se ti suona a casa Però sono molto fiero Che tutti noi abbiamo Tirato fuori degli esempi Di vita reale Perché appena abbiamo parlato Di vita reale E non di Tranne uno Di noi c'è io Che ho detto quella cosa Su nevax L'odio che porti Su internet Trascini dalla vita reale E beh ma certo È chiaro Provoco L'odio che porti Nella vita reale È quello che Hai assorbito su internet Che hai assorbito su internet Ormai è doppio Tutti e due secondo me È vero Scusate a proposito di canzoni Anche le canzoni Ci sono delle canzoni Che a me Mi causano un odio Tipo Tipo I want to ride my bicycle Dei queen Io ti giuro Che se la sento Mi viene voglia di Sono d'accordo Investire le persone Divento una bestia Mi muove qualcosa Ma è un discorso di no Non lo so È una cosa Nella Ti giuro Non lo so che mi succede E Quella Quel momento lì Mi Cazzo Quando me l'hai detto Che non ti piacevano i queen Anni fa Eravamo a Milano Sono rimasto Eh no C'è un problema Non so perché Ma don't stop me now No quella sì Quella sì Però mi devo sempre fare Mi devo sempre dire Aspetta Aspetta Ragiona Sono i queen Sono grandissimi E altro pezzo E altro pezzo Che mi fa veramente Scrive terroristico Mi diceva Magnotta Freestyler Di Bonfunk MC Freestyler Freestyler Freary Sì 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 Ma quale canzone hanno fatto Eh non riesco a ricordarmelo Però era quel tipo di Allora Intensamente i musicisti italiani Con la coppola Sì Che fanno un po' fusion Fanno un po' cusse Tipo in egrita In egrita però li associo Al doggione Giacomo Quindi qualcosa Alla salta Però quel tipo di musica Mario Venuti Io nelle onde Ti prende Oh Esatto Quel modo di cantare Biondi Ah ok Quel modo di cantare Biondi però è un'altra cosa Sì è un'altra cosa Però comunque Tipo vibrazioni No No lui è Posso prendere la palla al balzo Sarcina Sarcina unico milanista Che rispetto Abbiamo una palla al balzo Perché Perché è un artista Abbiamo una palla al balzo Questa è la nuova rubrica Di Carmelo su Vogue Italia Palle al balzo Di Carmelo Vai Super nub Sì No no Aspettate No no Di 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 Dopo Berrettini Carmelo Allora Io voglio chiedere Se esistono Dopo Berrettini Carmelo Non è Carmelo Carmè Voglio chiedere Se esistono i fan Di Mario Biondi Perché è sempre ovunque Ma non ho mai conosciuto Uno che dice Io ascolto Mario Biondi Un grande Oh mio padre Un grande Scopre È un biondiano È invecchiato male Però nel 2007 Un grande Mario Biondi Ti va di cantarci qualcosa Nel 2007 Però c'era C'era la sua magia Aveva la sua magia Di sette anni Avete messo Mario Biondi No abbiamo messo Mario Biondi Però a Natale Mario Biondi C'era della magia Christmas magic di Mario Biondi You never watch out No 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 Sorpreter out Mario Biondi È tipo Pelato Occhiali Mio padre Mio padre Mio padre Mario Biondi Quel modo di cantare Musica Abbiamo detto Ovvio ti parti in radio Ti sali lungo i nervi Così Ma tipo al cinema C'è qualcosa Per cui vorresti andare Su Facebook E scrivere al regista Ti odio Poi hai fatto Allora Le commedie francesi In cui un gruppo di amici Si incontra tutti insieme In una casa meravigliosa In Borgogna Hanno tutti quanti Dei nasi lunghissimi Da francesi Queste donne di 60 anni Che Oh Marcel E stanno lì E la sera Me la puoi fare Non doppiata Grazie No perdone Non volevo mancare Rispetto alla categoria La categoria No loro si definiscono La categoria E non vorrei Quella roba lì Mi causa un urto Però vedi L'odio spesso È una cosa irrazionale Bisogna imparare A controllarla Ma lo vedi che ci siamo accesi Tutti Ma certo Perché Però la differenza È che non andiamo Poi su internet Aspetta Dovete morire Ti dico Una cosa L'unica cosa più bella Di odiare qualcuno È parlare di odio E trovare qualcuno L'odio L'odio non crea complicità Perché una volta che odiamo una cosa Sicuramente poi tu ne troverai un'altra ad odiare Allora mi devo incattivire ancora come te E come fa costruire una relazione su quello Su invece la passione Una cosa in comune E La discussione Perché magari a te fa schifo Tipo io amo le commedie francesi Un caseggiato In cui nei 60 anni ricchi Vanno a mangiare formaggio E si tradiscono Fra loro E poi arriva un nero A sorpresa Comunque sei qua Io amo quei film Da morire Non ti saprei dire un titolo Guarda come ti sta odiando adesso Mentre lo dicevi Mi sta Adesso devo andare a Pilato Adesso C'è tutto contratto Qua sul col Poi ci sono delle categorie professionali Che sono vittime di odio quotidiano Ma non su internet Allo sportello Tipo giustamente C'era Alice suggeriva Quelli che lavorano alle poste E che ogni giorno Quotidaneamente Hanno solo persone Che gli abbaiano Il proprio odio Perché l'ho spinto L'ho spinto Però spesso Non è colpa loro È colpa del sistema Ma certo che non è colpa loro Loro se non subire Devono subire Invece gente che lo merita Sono sempre i commercialisti Ah di base Sì 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 Di nuovo Tranne il mio Che saluto E poi gli autisti Dei mezzi pubblici anche Che sono considerati La feccia E la causa Del traffico Del blocco Come se loro decidessero Di Anche i tassisti Sono molto odiati I tassisti E grandi odiatori E grandi odiatori Però è vero Perché anche loro Grandi odiatori Sì queste sono persone Che poi quotidianamente Sul luogo di lavoro Ricevono A lot of hate Anche Vi ricordo c'è stata Una campagna Anche Per chi lavorava Dei train manager Diciamo quelli Che lavorano sul treno Che ricevono ogni giorno Ma non messaggi Ma proprio odio Fisicamente Ed è molto difficile Anche per loro Hai visto Recentemente eravamo in treno Abbiamo vissuto Quella scena Il tipo che diceva Ci vorrebbe un altro treno Ci vorrebbe un altro treno Per quelli che non pagano Il biglietto E c'era questa Giustamente questa ragazza Che faceva la train manager Che doveva gestire Sia una persona Senza biglietto Sia un pazzo Che urlava Degli insulti razzisti A questa persona Dicendo di altri treni Cioè non è facile Per alcune categorie È molto più difficile State dimenticando Anche i più odiati Dagli italiani Sono i parlamentari I parlamentari Vittime di odio Queste persone Sì ma sono i più odiati Ma sono anche quelli Che con questa storia Dell'odio Poi diventano i nuovi Allora vai tu Che riesci ad essere Ci fidiamo E poi tu diventi L'infamico Poi poi vai lì E prendi lo stipendio Da parlamentare Ovviamente Ma tutti quelli Entri nel turbinio Ma certo Ma quelli C'è la maggior parte Dei persone che odia Parlamentari Si dimetti Quattro minuti in Parlamento Diventano peggio Ma questo non è mai successo Oh Dieci anni fa Amica mia Amica mia Oggi tutti Grande rettitudine Dentro quel movimento Fatto da persone per bene Nessuno ha fatto magagne Adesso hai 34 anni Sì Quando ne avevi 27 Contro chi ti sei schierato? Ma io Quando avevo La tua battaglia 27 anni La mia battaglia Te lo dico qual era Era contro La signora Bruna All'università La segretaria Della mia università Facoltà Roma 3 Che non riusciva A trovarmi Questo credito Col quale io Potevo accedere Al punteggio Per laurearmi Io Sono in una battaglia Molto dura Sfibrante Ho combattuto contro La burocrazia italiana A 27 anni Ho sentito tutto il peso Della burocrazia italiana Luca Ravenna Sei riuscito a vincere Sono riuscito a vincere Alla fine sono diventato Dottore Ho trovato quel credito Però Ho combattuto Una grande battaglia Tu Luca Ravenna 27 anni Dov'è che hai dimostrato Coraggio? Dov'è che Il coraggio è venuto fuori? Il coraggio è venuto fuori Quando ho scritto Il mio primo soggetto Per una produzione Parlando con il regista L'autore del suo gioco Finché si è fatto L'ho scritto insieme A un certo punto Ho parlato con il produttore Che mi ha detto Ci pensa lui per i soldi E il produttore ha detto È tuo primo soggetto So che ti avevo detto Che avresti preso i soldi Non li prenderai E io Ho combattuto Dicendo Ci sta Assolutamente Giustissimo Giusto così Assolutamente E questa è la mia battaglia Coraggioso Coraggioso Non ho avuto paura Non ho avuto paura Perché la paura Ecco La paura uccide Bravo Bravo È giusto È giusto È vero Beh noi sicuramente Insomma abbiamo ricevuto Sì Attacchi da categorie Molto pericolose I doppiatori Certo Senz'altro I commercialisti I commercialisti I Novaks Che comunque Qualcosina Stiamoci attenti Sì Ma per esempio Uno che invece Non so se ha ricevuto Attacchi o meno Nella sua vita Roberto Odiatori Haters Ne sai qualcosa Ti è mai capitato Che qualcuno Ti vivesse addosso Che insomma Scrivesse qualche commento Credo di essere Campione mondiale Campione mondiale Sì Certamente Campione mondiale E diversi livelli Poi sai Di iteraggio Perché Quello originario Che tu c'è proprio L'odio Dei camorristi E quello Ecco Quello forse Un po' diverso Sì Credo sì Dai commercialisti E dai doppiatori Sì È un Sì Che è un odio Ma anche più diretto Non Così esplicito Perché È tra le righe Ed è un odio Che senti fisicamente Poi c'è l'odio Così Distinto Che arriva sotto il post Portato quasi sempre Dall'oppositore politico Ah ecco Quindi quello è il tipico Cioè Buffone Portateli a casa tua Gli immigrati Tipico Attico a manate Miliardario Il vero mafioso Sei tu Hai diffuso Cultura criminale Con le tue serie E queste sono cose Che hanno detto Anche a noi due Comunque Ah sì sì Ugualmente Tranne la cosa Sulle serie Per il resto Sì perché Non abbiamo scritte Poi c'è l'hater C'è l'hater Collega Che però Ha meno Diciamo Voglia Di Potersi esprimere Proprio con l'odio Con il fake account Spessissimo Io ogni tanto Credo di aver beccato Qualche Veramente Questo è lui È lui Non può non essere lui Chiaramente lui Si è fatto il fake account Ma c'era una scelta estetica Fatta bene Aggettivi Aggettivi Che ci sono sempre quelli È lui È lui O lei E oppure Che lo fa Lo mettono dentro Insomma qualche pezzo Ma perché Poi in fondo Tutti gli hater Sono Gemelli L'invidia È il DNA Infatti La verità è che L'invidia È il DNA Comune È certo Ma E ti Ti capita mai Hai voglia Di rispondere Per bene All'hater Quello che però Abbiamo Quello comune Cioè quello che Viene sotto al post Sì La signora 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 Rosalia Allora Lei che bacia la nipotina Che noi rimaniamo Sempre sconvolti No C'è lei che bacia L'immagine della madonna Di Pompei E scrivono delle cose Di una cattiveria Spaventosa Delle volte Devi tagliare le dita Per non rispondere Io rispondo Raramente E rispondo solo Quando dicono Non hai mai parlato Di pam E metto il link Esattamente Di quella cosa La ferocia Secondo me Nasce Da due obiettivi Cioè Il primo Sfogano Per una grande delusione Della persona pubblica Che in quel momento Sei tu Ma potrebbe essere Chiunque altro Cioè La signora Con la nipotina A volte vedo Appunto Vedo persone Sul profilo C'hanno l'arcobaleno La foto Con il bambino Sul pony O addirittura Scena di volontariato Per cui dici Ma come è possibile Che scrivi Pezzo di me Tu stai rovinando Questo paese In Russia Putin Non ti farebbe Parlare così No? Perché parli in italiano Lì c'è la persona Che dice Ma volevo una vita diversa Voi A sinistra Perché vengo messo lì Questo è importante Voi a sinistra Avete promesso Promettete giustizia Promettete libertà Promettete sicurezza E intanto Va tutto in mano Ai vostri sordi Ai gay Non dicono Non usano questa parola No strano Perché invece Generalmente Sono sempre molto attenti Alla terminologia Questo è interessante Perché è veramente Il minimo Comun denominatore Di chi viene contro Una figura come me Cioè Cazzari Alla fine voi Il giro Di gay Fate i soldi Coi libri Non è vero niente E loro mica credono All'altra parte Non è che veramente Credono poi Ai populisti Trump E via dicendo Ma almeno All'altra parte Vi odia A voi Che volete Cambiare il mondo E state soltanto Cambiando la vostra Sacca Questo veramente Tutti Ma proprio tu Anche il ragazzino Che appena ha iniziato A fare politica E questo è proprio Un problema profondo Della sinistra Degli intellettuali Cioè Non servite più Un cazzo State semplicemente Vendendo il libro Mentre Non so come dire 50 anni fa 40 anni fa Che per fortuna Loro non c'erano i social Però Tu vedevi Pasolini Insultato Pesantissimamente Sullo specchio Sulla notte Raramente avevi la persona Comune Che si occupasse Di quella roba lì E Pasolini Solo ricorda mai È stato processato Per rapina a mano armata E condannato Era tutto falso Per Per cosa? Rapina a mano armata In un benzinaio Ed era tutto finito Non era mai successo Ma è successo Il tempo Sempre stato appunto Giore fascista Mise la foto Di Pasolini Con un mitra E un fazzoletto Che era una scena Un film De Lizzani E beh Nessuno ha avuto nulla Da ridire Lui era sconvolto Era sconvolto Cadde in una depressione Terribile Quando poi si muore Si diventa tutti Sani Io sono convinto Anche nel fumetto Lo dico Se mai dovessero ammazzarmi Ci sarà una fila di persone Mi hanno odiato Che piangeranno Dicendo Ora mi amico O un eroe L'unica persona In questo paese Valeva Pasolini Dopo morto Hanno fatto così Ma invita Credo Ottanta processi E questa mano armata Viene condannato In primo grado Amministiato In secondo Il giudice dice Che lui voleva Provare l'ebbrezza Di una scena vera Tutto falso Ti immagini Uno dei più importanti Intellettuali Del novecento Che dice Fermi tutti Ho voglia di provare Un brivido E mettere a repentaglio Tutta la sua vita Impressionante Ma qual è Una delle accuse Più fantasiose Che ti abbiano mai fatto Quella che ti ha colpito Però devo dire Bravo Questo simpatico Perché una cosa del genere Io non sarei riuscito a pensarla Forse avrei voluto farla Questa cosa Allora Allora Difficilissimo A parte l'attico a Manhattan Che sappiamo che tu hai Sappiamo benissimo Beh no In realtà le accuse Sono state Ce n'è stata una Che però non era un'accusa Era Roberto Tutte cazzate Ti ho visto con una Twingo Bianca ad Aversa Ieri sera Eri dal benzinaio Mitra in mano Potevi Nella Twingo Peraltro pure Con i cerchi In lega Quindi comunque Mi ha veramente colpito Col neon sotto E questo nasceva dal fatto Che pago come tutti i pelati Il prezzo Che sono Che siamo tutti uguali Cioè pelato con la barba Tutti uguali Che è un pregiudizio terribile Perché non è vero Ti ho visto ieri Che conducevi Zelig In prima serata Ma come ti permetti Ma non dovresti stare a casa Esattamente È lo stesso pregiudizio Che vivono gli orientali Tu siete tutti uguali Come i formigli I pelati Ci dicono Allo stesso modo Pelati con la barba Siete tutti uguali Quindi tantissime volte Io ricevo persone Che per esempio Al firmacopi Si avvicinano E dicono Siamo uguali Dicono che siamo uguali Cazzo ma siamo completamente Differenti Però è San Luz Siamo uguali E tante persone All'inizio Che percepirono La scorta Come se fosse un merito Cioè la scorta Non è un merito Non è che tu la scorta Sei figo Non è che La scorta Non è una roba bella L'autista Che ti porta in giro È tutta una vita vincolata E poi la scorta C'era anche gente terribile E quindi ripetisco Non è un merito All'inizio fu percepito Poi sino a Salvini Appunto Proclamava di togliermelo Era percepito Come non è così Allora Tutti i pelati Di Napoli Venivano in qualche modo Percepiti Come se fossero me Pelati con amici Quindi erano Diceva No ma figurati Ma l'ho visto Che cazzate Stava lì da sorbillo Poi cose meravigliose Che succedono con Le cose Più assurdo Una valanga di cugini Una valanga di presunte fidanzate Una persona Che dico No ma sì Vivo con lui A New York Perché tu meno sei Cioè meno fisicamente Non ti si vede Banalmente All'aperitivo Del nuovo libro Cose semplici Al festival Di Roma Cose semplici Dove tutti più o meno vanno Se fanno sto lavoro Lì a quel punto La fantasia È Infinita E tant'è vero Che Era arrivata Anche l'immagine Che fossi Diciamo Molto alto Io sono un metro e settanta E salgo sul palco E per Ma devo dire Anni Sento sempre lo stesso momento Com'è piccolo Perché Poi entri anche nel sei L'eroe gigante Sì sì L'eroe gigante Certo Bellissimo Mi viene venuto in mente Mille cose Rispetto a Girare Questo amico pelato Napoletano Con tre amici E viene scambiato Continuamente per te Uno si è fatto La maglietta Giuro Forse online si trova Io non sono Saviano Che maglietta è Che vuol dire Aveva paura Girare Perché giocava Perché ci assomigliava E chi era? L'arbitro Collina Era uno che ci ha Arbitrato la finale Degli europei È vero Sì sì Ma all'inizio Mi è successa una roba Incredibile Pensa uscire all'appuntamento Una ragazza che esce con lui E lui ha questa maglietta addosso Ah grazie Pensavo Sì sì Ma mi è successo all'inizio Di questa ragazza Che mi avvicinò E Insomma Con confidenza Io Dico ma Ci conosciamo E allora le guarda Fa Ma com'è Abbiamo fatto Un mese scorso Siamo usciti insieme E ho detto Ma non ero io Era uno che si era spacciato per me No 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 Io ho scritto Gomorra Non sono io E questo poteva succedere all'inizio Quando andavi poco in televisione Poi i primi mesi Ah certo Ed era divertente Pensare che qualcuno potesse Dire appunto Non so Ad essere te Oggi è molto difficile dirlo Anche perché sui social Così però Tantissimi dicono Sono amici tuoi Ti hanno conosciuto E tu Ti piace Ma non gira solo lo zenzero Tutta roba E tu ti chiedi Ma per quale ragione Come cazzo vi viene Cioè che sfizio c'è a dire Che io Beh poi fra i vari attacchi Non era famoso Anche quello di qualche anno fa Uno che ti disse Ah ecco lì Sta là Se sta a mangiare gelato Sì Certo Non c'era uno che ti disse Mangare gelato Al pistacchio tra l'altro Andà questo Sì c'era questa roba del gelato Poi è il bellissimo finale Della puntata di Piff Sì che dice Non so se sono d'accordo o meno Però che uno non possa girare E mangiare un gelato Tranquillamente Era bellissimo Ed era Perché questa cosa del gelato Come il mare Io non vado Da anni a mare Potrei Con i miei uomini La legge me lo permette Anzi La scorta ti viene data Per continuare a vivere Ma la polemica Paghiamo le vacanze A Saviano Anche se Non è che paghi le vacanze Semplicemente Vado con loro Però non me la sento proprio Perché E la cosa del gelato È così Cioè Mangiare il gelato È visto come un atto Di divertimento Ma ha un precedente Importantissimo Vermicino Vi ricorderete Il bimbetto Purtroppo finito Dentro il pozzo Cosa succede? La madre Non mangia Dal minuto dopo La scoperta Di suo figlio Nel pozzo Sviene continuamente Le danno il ghiacciolo Le danno il ghiacciolo Il ghiacciolo L'Italia Vede una mamma Una mamma Che succhia questo ghiacciolo Per avere zucchero E acqua E tutta Italia La odia Come puoi mangiare Un ghiacciolo Lei stava sopravvivendo Perché non riusciva A masticare Questo per dire Nel simbolicamente Gelato Divertimento Stai godendo Sei felice E quindi Poi nel mio caso Ma come cazzo Cioè la scoccia Hai rompito il cazzo Della lotta contro la camorra E mangi il gelato E ti mangi pure il gelato Ma come dormi Secondo te È un problema italiano Soprattutto Cioè siamo noi Perché si dice sempre Che l'Italia È un paese Un pochino Se vogliamo Di rosiconi O di gente Di invidiosi Invidia quello che hai Mentre in America Tutti dicono Sei ricchezze Più lesponi Sei stimato quasi Cioè in America Te l'avrebbero detto I'm eating the ice cream Look at that Pistacchio ice cream Ma per la qualità del gelato Allora In realtà L'invidia È in ogni paese Poi ho vissuto appunto Tanto in America Sono stato in Francia Molto L'invidia Sostanzialmente L'invidia americana E per essere invidiato In America Devi guadagnare 100 milioni All'anno I soldi Sono status E allora Lì ti invidio Per essere Una figura come me Tutt'altro potrebbe Che essere invidiata In America È una vita di merda Quindi viene visto male C'è il fastidio C'è stato Io quando scrivo in Messico E moltissimi cronisti Messicani appunto Hanno fastidio Perché tocco I loro argomenti Gli intellettori americani Infastiditi Perché gli tocchi L'argomento Quindi lì la battaglia Professionale c'è Diciamo Questo tipo di atteggiamento È un paese puritano Terribilmente puritano Quindi Doppia morale Non so Diciamo In qualche misura È un'invidia Diversa E me ne sono accorto Notte degli Oscar Ero a casa Di una Importante Diciamo Dirigente Di Netflix America E mi invita A vedere La notte degli Oscar E tutte le persone Che guardano Gli attori Dicono Com'è Com'è bella Com'è vecchiato bene Cavolo che bel vestito Ma che sorriso Anno dopo in Italia Oscar Quindi non il David Oscar fa Cazzo ma è ancora viva Minchia Che schifo di labbra Così fa Terribile Questo ancora Gli fanno fare i film Li capisci La differenza Cioè probabilmente In America Era ipocrisia Perché c'erano Tante persone pubbliche Però Però Io mi sono trovato Meglio Cioè Il fatto di non Cazzo Perché ci si divide Come Sanremo Ci si divide Tra chi cazzo è E ancora vivo Cioè E non c'è mai Come dire Voglia semplicemente Così di accogliere Di divertirsi Ecco Ma l'accidia Riguarda secondo me L'Italia Perché non ci si riesce A realizzare Cioè Io ho visto Negli Stati Uniti C'è una Cosa particolare Che è veramente Splendida Tu a vent'anni Ti scrivi A pattinaggio artistico Dal minuto dopo Ti senti Pattinatore O pattinatrice Dal minuto dopo Non è tuo padre Che dice Che pattinatore Ma va Fai vent'anni Studia giurisprudenza Tu Ma proprio tu Vuoi provarci Ma va Lì è così Al punto Che è quasi ridicolo Cioè A me colpiva Che incontravo persone Che si erano iscritte Da un anno a chitarra Io sono chitarrista Rispondevano Questo in Italia Succede solo col padel Dal giorno dopo È campione di padel Guarda Gioco a padel Quattro o cinque volte Al settimana Ma lei non è primario Sono primario Ultimamente primario Di stop back Il rovescio E quindi no Sentendoti sempre Realizzato L'invidia Ha un'altra dimensione Cioè Non è che guardi Di Caprio E dici Maledetto bastardo Eh certo Anzi Ti motiva Ti motiva Perché dice Io Ma poi Essendoci più lavoro Tu puoi fare l'attore E in realtà Per 15 anni Continui a fare Altro Per sostenerti Però E il meccanismo è questo Quando io guardo Quando un americano guarda Di Caprio Dice Voglio essere Di Caprio Quando un italiano guarda Di Caprio Dice Di Caprio Deve essere come me Questo è È vero È incredibile Beh anche perché poi se In un paese in cui Pensa che Si pensa che la scorta Sia Un merito Cioè Pensa all'equivoco Ma infatti A questo proposito Tu Io mi ricordo anni fa Una cosa che venne detta Se ricordo male La tagliamo Emilio Fede Non ti disse Ah Saviano fa tanto il figo Che ha la scorta Ma anch'io ho la scorta E di certo Non me ne vado a vantare in giro Sì Ma perché Emilio Fede Aveva la scorta A un certo punto Sì Anche Sgarbi disse questo Ho avuto la scorta Non mi sono mai lamentato Sarebbe un bellissimo format tv Far provare una persona a caso Per due giorni Com'è vivere con la scorta Ma chiunque Anche perché Scusa ma Mi sembra di vedere Che Sgarbi Faccia una vita Piuttosto diversa Dalla tua Esattamente Anche per capire Ci sono diversi I direttori dei telegiornali Spesso hanno la protezione Perché Sono bersaglio di matti E di mille Tipo di pressioni Ce l'hanno A Fasa In molti casi Per esempio Paolo Mieli L'ha avuta per un periodo Poi la revoca Poi la riprende Poi ci sono diversi tipi di scorta C'è una scorta Che si chiama Quasi di tutela Si dice tecnicamente Che non è scorta Scorta è solo se hai Una macchina dietro Che ti segue Se hai la guardia del corpo Si chiama tutela Ok Però nel linguaggio giornalistico Diventa scorta La scorta Tutti la scorta E poi ci sono Dei livelli Perché di procedure Molto complicate Perché se tu Mi vorrei far vedere Quando sono stato a Napoli Due anni fa Ero un incubo I miei guardavano Dalle finestre E c'hai Poi c'hai delle pressioni Rispetto alle fasi Se c'è un processo Che sta chiudendo Ma i vetri della mia auto Non vanno giù È tutto chiuso È un ovetto Sì Purtroppo viene visto come un privilegio Perché viene visto come una cosa figa Come un lusso Viene visto come un lusso È scambiato un po' con i bodyguards Esatto Che è un'altra cosa Proprio è un'altra cosa Si mischiano proprio i due I miei uomini Li chiamo così Ma non è che sono Non dipendono da me Non è come Madonna Che dice Ragazzi portatemi lì Oppure portatemi lì E loro Sono loro a dirti Lì si va Qui non si va Lì si va così Lì si fa bonifica Lì non ci piace E qua non si può andare E qua è meglio di no Ti è mai capitato di Essere proprio dispiaciuto Perché ci tenevi tanto Ad andare in un posto A volte sì Diverso tempo fa E a Napoli Erano posti Che non c'avevano Via di fuga E poi Ci sono situazioni Dove non sai Che se ti sputano Sul mangiare Fa ridere questa Ma veramente Eh certo Ti schifano a morte E quindi quello Della scorta Di assaggiare No non assaggia Non assaggia Parmigiano Grazie Avrei un po' fame Se per me Poi c'è Poi l'insultatore Insomma In treno In aereo C'è quelli Che ti danno addosso Pochi Va detto Recentemente Per fortuna Poi c'è tanta gente Anche che ti dà solidarietà E anche qui Il signore Che mi ha fatto il tampone Prima Ha detto Anche se la situazione è strana Mi mettevo il tampone Nel naso Anche se la situazione è strana È un onore Sì ma l'avrei un po' meno sfondo È un onore Ma facciamo presto Sì Però è così strano Che poi si è ridotta Questa dannata vita La questione scorta Però questa è la tua vita vera Di tutti i giorni In carne ed ossa Con tutte le sue limitazioni E tutto quanto Ma il rapporto invece A quella online Alla vita online Ti è mai capitato Di scoprire O scovare O cambiare rapporto Rispetto a un hater Conoscerlo Avvicinarti A lui o a lei E dire Ma sai che forse No ci sono stati diversi haters Che mi hanno Detto Ho cambiato idea Spesso erano ragazzini Ragazzini di liceo Che poi mi hanno visto Liceo Istituto tecnico Parlo moltissimo Alberghieri Che poi mi hanno visto Nelle dirette E sono rimasti Affascinati In realtà Dalle storie raccontate Quindi quando Non c'è la presa Di posizione politica Per esempio A Lucca Quando ho presentato Questo libro E' arrivato un ragazzo E' detto Ah io sono di destra Così però Cazzo mi piace Quando parli Di storia di mafia E lui Non credo Di averlo completamente Recuperato Però Diciamo scindeva C'è una cosa Uno così Uno così Non sapevano in un modo Non sapevano in un altro Qualcuno mi ha detto Ho cambiato idea Ho capito Che Salvini mente Qualcuno ha detto Non condivido nulla Ma mi piace Quello che fai Ripeto Sempre sul racconto La divulgazione letteraria Ma c'è stato anche Qualcuno perso C'è stato anche Qualcuno perso Diceva Io pensavo Che tu Poi ti ho visto Che hai parlato Con Oppure Non hai detto nulla Su quel conflitto Quindi poi Si stacca E quello è molto simile Anche rispetto A noi A chiunque esponga qualcosa Cioè su qualsiasi scala Non l'hai fatto Come avrei voluto farlo io E Questa è una cosa Che una volta Non potevamo leggere Invece adesso lo leggi Dici Cavolo Non l'abbiamo fatto Come dovevamo Non abbiamo dato abbastanza spazio A Carmelo Carmelo aveva una domanda Sì volevi chiedere qualcosa Carmelo Lui ha fatto L'alberghiero E attenzione Esatto Uomo dell'alberghiero Mi è arrivata una telefonata C'è da spostare una Twingo Per caso Non è mia No in realtà volevo chiedere Ma vai molto a presidiare Gli istituti alberghieri Perché ti porti avanti E vuoi evitare Che le nuove generazioni Disputino nei piatti Il controllo Una vera domanda invece Si può fare Ad una persona Nata a Napoli E che Va in giro con la scorta E con la tutela Cosa ne pensi Dell'impasto Contemporaneo Della pizza Che dici Sei un tradizionalista Oppure Aspetta Contemporaneo Possiamo definire contemporaneo Di modo che Non c'è una definizione ufficiale In via di Però Quello che hanno in comune Di solito È un mix di farine E un'idratazione più alta Perfetto Perfetto Allora L'impasto contemporaneo Tra l'altro Fatto con l'impastatrice Quindi già questo fa la differenza E già lo sento polemico Roberto Saviano Su questa storia Rende la pasta Elastica Quindi mi piace Ma Perdo Diciamo Quel sapore Di farina Che mi piaceva Con l'impasto Tradizionale E anche Quel retrogusto Di lievito Che mi piaceva Sentire Quindi Saviano È solo per la nostalgia Per il passato La pizza di oggi Non gli piace Andiamo In collegamento Da Napoli Come l'hanno presa I pizzaioli Esatto Il vero Giudice Di quattro ristoranti A Napoli Dovevi essere Però sono un fanatico Della pizza Nel senso che ne ho Abbastanza un'ossessione Mi piace molto Ne parlo poco Che fa oleografia Il napoletano Ovunque Però per esempio Vado in qualsiasi posto del mondo Vado nelle pizzerie Ah è certo Cioè a Innsbruck Vado Provi la pizza Provi la pizza Sì sì Una buona Vecchia pizza Io ci ho mangiato degli spaghetti Panna specchia spare Da Innsbruck Era il 2006 Ancora me ne ricordo Non so la pizza come fosse L'impasto Io mangiavo una pizza alla diavola in Giappone Appena appena da rivedere Anche se una delle più buone margherite L'ho mangiata proprio in Giappone Lo vedi È perché poi i giapponesi Hanno questa cosa Che imparano E migliorano Ripropongono Ancora meglio E la pizza romana Esiste per te? Esiste perché quella Bassa Secca Insomma Anzi alta Sì non sono un fan Non sono un fan Confesso che non sono Eh vabbè vabbè Però giustamente Senti ma a proposito di Proposte assurde Programmi Ti hanno mai fatto Una proposta televisiva Incredibile Cioè di partecipare a un reality Di condurre un programma di cucina No No in Italia no Mi avevano proposto In Germania Dopo una foto Che girava Tanta Anzi Una casa editrice Tra le migliori al mondo Solo che ero tipo Così di lato Questa camicia aperta Aveva che sembrava Una cosa da modello Mi imbarazzava moltissimo E praticamente Volevano che facessero Una specie di uomini e donne Per donne intellettuali In Germania Cioè tipo A condurlo No no io dovevo essere lì Diciamo E le persone E dovevo scegliere Tra le professoresse Ovviamente Una bomba Un programma Lo vedrei subito Un das italian mensch Roberto Saviano Aus Napoli Così così Con Maria De Filippi tedesca Che è presente E io dicevo No ma io non ho risposto Snobbando Tutto l'altro ho detto Proprio non sono capace Sarei imbarazzato Rosso Ma in tedesco Avrei parlato No no Avrei parlato In italiano tradotto E loro dicevano Devi parlare italiano Devono sentire L'accento italiano Perché è lì Certo perché L'Italian La T-Lover Qui questa è stata Forse la proposta Più assurda Sì Poi ce ne saranno Altre che ho dimenticato Ma Perché le proposte Poi sono Le più incredibili Attenzione Luca Quando dici Questo programma Una bomba Perché la scorta Si era un po' Tirata su Hai ragione Hai ragione E invece I programmi tuoi preferiti Cioè tu guarderai Un sacco Un sacco Di Trasmissioni Cioè Immagino la sera Dipende Sì sì Mi sparo Più le serie Più serie Doc Faccio una roba Perversissima Mia Faccio ore di processi Ah cioè Ti vedi tutti i processi Io a me Me li ascolto Soprattutto Quelli degli anni Settanta Ottanta Quattro ore Di Pasquale Barra Onimalu Infatti stavo per chiedere Un greatest hits Dei tuoi processi preferiti Sì Pasquale Barra Che racconta Dei suoi omicidi Ma era vera Quella di Francis Turretello Sì certo E non è vera La storia Che lo mangia Che gli mangia Però gli strappa il cuore Sì simbolicamente Una simbologia Un po' Un po' Di da scalica Bastava togliere like Alla pagina Ma poi lì imparo Imparo perché Hanno delle frasi incredibili Pasquale Barra Dice Signor giudice Io ho saputo vivere Quindi so morire Questo è tutta roba Che io poi prendo Poi mi accusano di saccheggio Io prendo pari pari E ne faccio Nei dialoghi Comorra Sì fai comorra E tutto il resto Perché Qualsiasi scrittura Veramente In grado di appassionare Deve avere autenticità Se tu ci arrivi Con la fantasia O solo con la fantasia C'è sempre un po' Di inautenticità Cioè non ci credi Che tu sceneggiatore Non ci credi Sì E invece prenderlo da lì E invece quando L'è lì impensato Guardo Guardo Sì Un po' di programmi di cucina Qualche guilty pleasure C'era una roba Con una signora Eh però Lo vedevo in America Che è una signora afroamericana Che fa i dolci Con un Vinceva sempre No E tra i giurati C'era un signore pelato Australiano D'origine calabrese You look like Roberto Saviani Look at you Zum Zumbo Si chiamava Zumbo E mi piaceva i dolci Mi piaceva un sacco Questa roba dei dolci E Poi Isola dei No Grande fratello Qualcosa Ogni tanto Ogni tanto Grande fratello VIP Devo dire Ha dato soddisfazione Qualcosa Non sono riuscito A vederlo C'era quella Quella dell'isola Che gli dicavano i fidanzati Temptation Island Temptation Island Io e lei ce lo vediamo la sera E ci commuoviamo Anche un po' Ti smuove qualcosa Cioè ti è ipnotico È una cosa Che magari Dici ma che cosa Sto avvenendo Però poi Vabbè il conflitto Dei conflitti Portato in modo così Diciamo Regalato proprio Eh certo Sì 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 Mai che rischino Mai che decidano Di mettere una coppia Che sta insieme Da 35 anni Mai Persone tranquillissime Un po' panzetta Bella signora Però tranquilla Oh non guardare le ragazze Non c'è No Tengo la cazza Vai Non me ne frega niente Io amo solo te Non mi interessa Amo te Basta È vero quello che dici Dell'importanza Di rendere autentiche Le battute Degli attori E dei protagonisti Di una serie Questo in Gomorra Cioè loro parlano tutti In un napoletano Peraltro Io so che voi avete lavorato Per renderlo Comprensibile Più accessibile A tutta l'Italia Però penso sia stata Una delle Degli ingredienti Veramente del successo Internazionale Di questa serie Non vi siete neanche Spaventati a farli Parlare in una lingua Che magari all'estero Era veramente Ancora più incomprensibile Ma sai l'estero È più facile Perché l'estero Comunque avrebbe messo I sottotitoli E il milanese O il romano Che sente fastidio Nel mettere il sottotitolo A una serie italiana Quindi si erano spaventati Moltissimi produttori Fu lì fu Andrea Scrosati Che insistette tantissimo Dicendo Io ti sparo Io ti spara È un'altra roba È certo Io non posso venire da te È proprio un'altra cosa Sebbene Lo dico da milanese Bevi Hai da stare senza i pensieri Devo vedere se posso fidare di te Gomorra Brienz Tante ne hanno fatte così Perché è veramente la lingua Ma poi c'è una ragione Ancora più profonda Quando parlano Io vivo ai metri In questi mondi Teatralizzano Lo fanno apposta Quindi se tu italianizzi Una frase Che loro si sono preparati Loro si preparano Quelle frasi così Effetto Io per questo O poi abbiamo scritto così Cioè Si siede Si siede un boss Durante un interrogatorio Lui sa già Le frasi che deve dire Per colpire Per colpire Stai ascoltando Journalisti La corte Signor giudice Io non so chi sono loro Ma so chi sono io Quella se l'è preparata Ah quindi loro si preparano Certo Cioè scrivono Perché stanno recitando Poi stanno chiusi in una stanza per mesi Certo E quindi è un continuo costruire Ma il potere poi è così Simbolo, celebrazione Sapendolo Io ho detto Come faccio a renderli credibili Il napoletano li rende credibili Perché è proprio quel modo di fare E quindi loro recitano Con frasi costruite Perché è davvero così Che il crimine Crea fascino Tu sei un ragazzino di vent'anni Ti devono mandare a fare Una roba pericolosa Dove se ti beccano Ti prendi 15 anni Dove probabilmente Ti sparano alla pancia Non basta I soldi che ti danno Quella persona ti deve Riempire Il mito E quindi te lo dà con le parole Ah perché Tu vuoi continuare a essere Una uccelli di gabbie Oh vuoi voilà E così è più facile Che verrai Oh sai che quasi mi hai convinto Poi io qui oggi A studio Devo dire che è tutto sommato E quante volte Cioè Come convivi Col fatto di aver raccontato Questo mondo E a vivere Del racconto Di questo mondo Cioè ovviamente Ti avevamo accusato In tutti i mali Per lucrato Anche l'accusa Tu fomenti i ragazzini A seguire il crimine Con le tue serie Questa Devo dire Ha sempre fatto molto ridere Perché In tanti anni Diciamo Di Don Matteo Nessuna vocazione in più Perché tutti i camorristi Ma pieno di omicidi In Umbria Non è anche quello Anche quello In realtà è un falso problema È veramente una grande bugia Il ragazzino che si esalta Guardando Jenny È un ragazzino che Si sta semplicemente Esaltando per un racconto Gli piace Il suo modo di agire La sua voce Come pesta Ma in realtà Sta conoscendo un mondo Attraverso quel piacere Che può dare fastidio Alla mamma che lo vede Lui sta conoscendo un mondo Se quel mondo Lui lo sceglie Non è per Gomorra È perché vive In quel territorio È perché già conosce Le pistole È perché C'è la famiglia affiliata È perché la campagna È il più alto tasso Di evasione scolastica D'Europa È perché c'è una disoccupazione Mi fa molto ridere Quando vedo queste letterine Fatte dalla borghesia napoletana Che mi fa molto piacere Che ho di Gomorra Che mi schiava Il nostro lavoro Vanificato Dagomorra Vanificato in che senso? Io racconto quelle periferie Racconto quelle contraddizioni Cosa pensano di aver fatto loro? E poi dico Cosa hai fatto? Ma però Cioè disoccupazione A livelli estremi Assenza Le associazioni devono combattere Il più possibile Per tenere i ragazzi Diciamo non in strada Domanda È però così Tu racconti solo il male Ma io voglio raccontare il male Cioè è legittimo Ci sono mille serie Su Raiuno Quanto è bello il Golfo di Napoli Gli poliziotti che hanno la Casa Posillipo Le associazioni Cioè ci sono un sacco di cose Sulla Napoli Meravigliosa Cioè Io voglio avere la libertà Di raccontare l'ombra L'orrore Poi in realtà Quello che mi dispiace Io non sto raccontando la Gomorra Cioè il vero scoop è questo Io con Gomorra racconto il potere La famiglia La disperazione I rapporti di potere Ci sono poi delle regole In cui io credo nella mia vita Che ho messo tutto in Gomorra Cioè Non fidarsi di nessuno Completamente Ma chi si fida cade E non è un bel principio Però è un principio Che ho messo lì dentro Un principio che vivo io Tradire Cioè Pensi che tradire Ti possa far vivere meglio A passo con lui Che è diventato più forte Non verrai mai accolto Quindi il tuo è sempre Un semplice destino Devi continuare a stare Nella parte in cui Sei finito Tutti quelli che cercano In Gomorra di passare All'altra parte Cadono I traditori Non reggono mai Mai Perché poi non sarai mai Accolto davvero E poi Cercando di non fare spoiler La responsabilità Cioè A un certo punto Quando tu scegli Una cosa così Nel caso di Genio Insomma Sei scelto Perché tu sei nato Figlio di un boss Ma io lì Sto parlando anche di me Nel momento in cui Scegli di Occuparti di queste cose O di fare queste battaglie Chi è intorno a te Ha la vita compromessa Tu devi liberare Gli altri di te Perché ha una vita Per prendere me Attaccano le persone Intorno a me Per prendere me Non fanno lavorare O isolano le persone Intorno a me Quindi questa roba qui È terribile Diciamo Il testamento Inteso come L'ascito Per chi vedrà la serie È mio Molto mio Dentro Comora È l'ultima parola Che Gennaro dice Ad Azzurra In quel dialogo C'è C'è tutto quello Che io volevo dire Esattamente In quel momento In quel frangente E nonostante questo Nonostante Comunque ti è arrivato Queste lettere Da cui ti dicono Ma Però avrebbe potuto Ambientare Queste belle cose C'è un ristandino Ma Ovom Non si vede mai Ma perché Secondigliano È un'ossessione Per secondigliano Capisco Gli affitti Sì E poi dicono Questa cosa Appunto Spara I ragazzini Sparano Non è vero Perché anche Quando giocano È come se Facciamo un esempio Torni Va in classe C'è uno Che fa Darth Vader Non è che lo stai Trasformando Nel cattivo Lui sta giocando E sta provando A fare il cattivo Cioè Capisco che possa In un certo Meridiano di mondo Dare fastidio Ma in che senso Ma è un modo Che lui sta Con cui si sta Approcciando Invece Il crimine Se tu lo vedi Spesso Rapina come In Gomorra Ma non è vero Cioè Noi Avendo raccontato Quella dinamica Tu la scopri Solo dopo averla Vista rappresentata Certo E questo è il punto Ma è uguale Con Breaking Bad Quando dicono Trafficanti Come Breaking Bad Breaking Bad Ha studiato il traffico E tu ti accorgi Di quel traffico Perché è stato rappresentato Questo è stato Un incubo Durato Sette anni Però è bello Il potere del racconto È anche quello di Far scoprire Questi mondi Infatti Vogliamo chiederti Noi adesso stiamo anche Scherzando ovviamente Con battute e minchiate Varie Ma quando invece La Camorra è raccontata In modo comico In modo Pirlesco In modo Come lo vedi Oh io lo vedo Anzi Molto molto In maniera molto divertente C'era C'era un video Che vi di tempo fa Girato molto bene Dove c'è sto Ragazzo Non so se avete visto Che è torinese Che è una No Praticamente È un ragazzo Che stava sempre zitto In questo gruppo Di criminali È Cabilame Ragazzo torinese Che non parla In effetti Ora c'è solo lui È lui Esatto Non scherzo Un ragazzo così Non parlava mai E a un certo punto Scoprono che è torinese E dico Come cazzo È mai successo Un torinese In la camorra Come è possibile Come è possibile Lo portano dal capo E dice Come torinese Ma perché Ma poi un torinese Spero sparare un torinese E alla fine Lo accolgono Quando lui Felice Si inginocchia Dal boss Si abbraccia Scopre la schiena E c'è il tatuaggio La Juventus Lo ammassano Però per dire Quella cosa L'ho trovata divertentissima Con tutti i luoghi comuni Anche del crimine organizzato Anche del crimine organizzato Che in realtà Il crimine organizzato italiano A figure E quello americano Italo americano Per esempio Cosa nostra America Ha tutto insieme Abruzzo Lucania Certo Nella stessa organizzazione Al Capone napoletano Capito siciliano Bonanno siciliano Gotti napoletano In Italia Ogni organizzazione Al suo territorio Però è pienissimo Tu oggi Andrangheta Sono milanesi Origine calabrese Allora Ecco Questa provocazione Noi non l'accettiamo Perché la Lombardia C'ha Varese C'ha Sondrio C'ha Como C'ha Lecco C'ha i laghi C'ha il panettone A te piace Non scherzo Ti piace Sabiano odia il panettone Esatto Mani sul libero Non è razzismo Va bene Va bene E allora va bene No è vero Che ormai sono personaggi Eh sì È completamente trasversale Carmelo Paradosso Almeno curioso Che gli italiani Sono famosi all'estero Per non essere in grado Nemmeno di organizzare Una cena Le cose più semplici Ma siamo famosi all'estero Per una nostra organizzazione Lo sai che La prima volta Si fa una domanda così È proprio strano Che siamo percepiti Come casinari Incapaci Ve la ricordate Un'espressione che in America Mi veniva raccontata Come barzelletta Più volte Cioè che L'inferno è Un pranzo Un pranzo Un pranzo organizzato Cucinato da inglesi Con gli inviti tedeschi E L'organizzazione è italiana Invece il paradiso è Cucinato italiano Organizzato dai tedeschi E gli inviti dall'inglesi Organizzato dai tedeschi La Meloni Se la prende Con questo tipo di barzelletta Assolutamente Non è possibile Che venga preso in giro Paradiso e Inferno In questa maniera Sendo noi cristiani Non ci possiamo permettere Minimamente Una cosa che c'è Peraltro gli inglesi Molto poco capaci Di organizzare le guerre Da sempre E io questo lo ribadisco Eppure L'organizzazione È vero All'estero In quello siamo stati bravissimi Oltre al fatto Che poi è veramente così Cioè la struttura Organizzativa Della criminalità Organizzata italiana Anche d'epoca Penso in questo momento Quando Cosa Nostra America Cioè l'italo-americana Deve gestire New York La divide in 5 famiglie 5 per 5 famiglie Pensavo alla cosa Di Five Points Che si incrociavano Gli irlandesi Gli irlandesi Poi quando Si federano con gli ebrei Cosa Nostra America Si fede Baxi Come si chiama Baxi Sigal E quindi si Cazzo E' incredibile Siamo all'estero La cosa più organizzata Che abbiamo E la criminalità Ma la scriveresti Una serie Su la criminalità Organizzata in America Cioè su Cosa Nostra In America Me l'hanno chiesto Diverse volte Anche se dopo Soprano È difficile Ti è piaciuta Soprano Bellissimo Bellissimo Scritta benissimo E raccontata davvero bene Mi piacerebbe scrivere Beh una cosa che non mi hanno fatto fare È stato un grande peccato Perché ero diventato negli anni amico di Donny Brasco Joe Pistone L'ho anche intervistato Se vi capita online è free C'è l'intervista che faccio a Joe Joe mi porta anche a New York Perché la sua condanna a morte in questo momento Non è mai sospesa Ma è attenuata Joe Pistone Si è infiltrato Per sei anni Dentro di un'organizzazione criminale Sei anni completamente Giorni e notte E storia pazzesca Io volevo scrivere una serie Perché il film È veramente il 5% Solo che Sony E Diciamo i diritti Che lui aveva venduto Non ci hanno fatto Anzi ci ascolta Sony Avete perso una cosa meravigliosa Sony Dai Era bellissima Perché la vita Di come Joe Pistone Diventa Donny Brasco È Ma non potete capire Lui Non è neanche per un giorno Poliziotto Quando tu vieni infiltrato Non puoi essere Come fanno spesso Vedere male i film Non puoi essere stato Già un poliziotto Perché poi uno ti riconosce Certo Diciamo Ma questo è ancora male Stato Ho fatto 3 anni Fa una rapida In supermercato Trovi le foto in giro Viene infiltrato Quasi sempre un poliziotto Alla fine del suo percorso D'accademia Come hai raccontato Subito Esattamente Sì subito Subito E nel caso di Joe Lui viene scelto Perché Prima dell'operazione Donny Brasco Era la più importante Però lui viene scelto Perché non suda Sotto pressione Ah Pensate Non suda sotto pressione Gli fanno molte domande E Le sue prime due Esperienze Di infiltrazione Sono pazzesche Una C'era una prostituta Particolarmente bella A Times Square New York Era la capitale mondiale Della prostituzione Adesso non più Ma proprio mondiale C'è migliaia di doni Tutto il mondo Venivano sfruttate a New York Portate Sfruttate a New York C'era questa prostituta Che adescava E poi il tizio saliva E veniva corcato di botte Proprio letteralmente spogliato E buttato in strada Allora la polizia Manda Un poliziotto Appunto Joe Che si mette Il tirapugni Quindi fa finta Di Insomma Accettare Sale con sta ragazza Come arriva sto tizio Lo corca di botte Non tirapugni E Il commento Che questo fa è Ma come puoi essere bianco E picchiare così Dice questo tizio E Joe Li mi svela Un grande segreto E lui non gli risponde No white I am Italian Certo Perché gli italiani Non sono bianchi Certo A Harlem Mi era successo Che ero andato Stupidamente Fissato Le mie tante fissazioni Sono pieno di ossessioni E fissazioni Sono fissato con la box C'era un pugile importante Che Si esibiva a Harlem Quindi io vado a mattina presto Vado a vederlo C'era questo allenatore Che mi voleva far fare guanti Con lui E quando vedo Che questo tirava certe sventole Se io pensavo giocassimo Volevo fare due foto Giocare con lui Ho detto Non posso Se questo ammazza Non ho la forza Di gestire un sinistro Come quello che senti Certe botte Quindi Torno indietro Solo E Sul Treno Un tizio Mi gira il braccio Dietro E inizia a vessarmi White trash Io gli dico subito Sono italiano Non sono bianco E vi assicuro Che lui inizia A guardarti diverso Nonostante italiani e neri Si odino da sempre Gli Stati Uniti Da sempre Però non sei bianco Certo L'italiano crede di essere bianco Sì sì Ma è tutta una convinzione Una costruzione Non lo scegli tu il colore Te lo dicono Ma ci sono proprio le gradazioni Nel senso che Il bianco è solo L'anglosassone Il francese Sì loro ci chiamavano Il caucasico Guinea 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 Poi gli italiani Prendevano i lavori Dei neri Che i neri Servitevano Anche se Dego E adesso è l'insulto Più Dego Che sta per Diego Ah è tipo un Diego Una volta era Guido The Guido Anche Guido Certo Anche adesso Anche adesso Sì 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 Anche adesso E poi ci sono quelle cose Che io adoravo Frequentare Gli italiani A New York E quindi ti chiedevo A questi vecchi signori Che parlavano Solo un napoletano Antico Tra l'altro Essendo arrivati lì Negli anni 40 Nella zona Dove stavo io Greenpoint C'erano Tantissimi salernitani Quindi facevo Allora Che cosa Che lavoro facevate Briccoliera Briccoliera Significa Muratore Bric Ah il muratore Bric Briccoliera Fence Vedi Questo era come Quando Frank Matano Ha già raccontato Che i suoi I suoi parenti Li ha pagato L'ansuranza Che serve L'assicurazione È tutto così È vero È vero Sì è che è un gergo Sì poi Ho carrona La macchina Eh sì E poi peggiora Di generazione In generazione Perché tu insegni I tuoi figli E poi nessuno Sa parlare italiano Ma il dialetto Quando sei italiano Pro shoot Facevano anche persone Pro shoot Manchara Sì E tutti i meridionali E i grandi miti Appunto Di Martin A Natale Fisso Fisso Considerato proprio L'italiano Più bello Più charmante Più incredibile L'odio totale Per il mondo Afroamericano L'unica strada Del Bronx Ancora italiana Siamo Arthur Avenue Non ci sono neri E quando ho chiesto Perché La risposta è Con l'ultimo C'era stato L'ultimo blackout Di New York Quando ci sono I blackout La gente Inizia a saccheggiare Tutto Gli italiani Si mettono Con i fucili E non arrivano Quindi le gang afro E da allora L'accordo È che non possono Eserci Ma neanche Passaggio Passano pochissimi E lì ci sono però Latini E albanesi Albanesi e italiani In America Sono veramente La stessa comunità Proprio la stessa Molto uniti Anche criminalmente Mentre il mondo Afroamericano Non ha crimine organizzato Ma si va liberi Si va liberi Perché ti spendi Ti spendi tutto L'idea di dover dire C'ho 5 milioni Me li devo Mettere da parte Mettere a stipendi Un gruppo Qualcuno L'ha anche fatto Ma Non esiste Si lavora Su qui e ora Esattamente Figo Ma noi Senti Io vorrei raccontare Questo aneddoto Che lega me Edoardo A te In qualche modo Noi ci siamo conosciuti Perché anni fa Io l'ho visto Sul palco Nel 2012 E ho detto Voglio fare Anche io stand up Ma poi Tra i miei amici Ci siamo scambiati I numeri E quando ci siamo beccati Ho detto Cazzo lui Cioè è già bravo Io non ho mai cominciato Se vado lì Voglio andare con uno sketch Sono andato a lui E avevo scritto uno sketch Guardandoti in tv Avevo scritto Questa stronzata Roberto Saviano Racconta il mondo Disney Ce l'ho detto Ci siamo scambiati Avevo iniziato a parlarne E Edo ha avuto Un'intuizione ancora più figa E ha detto Non facciamo Roberto Saviano Facciamo Beppe Il fratello Beppe Saviano Che racconta il mondo Disney E ci siamo divertiti moltissimo L'abbiamo addirittura Poi Giorgio Ha fatto l'inchiesta Che si raccontava Zio Paperone Sì Le origini della fortuna Di Zio Paperone Sono storie Che nasce in Klondike Dove nasce loro La numero uno E dall'inizio Mi ha scrivito Che questa cosa Te lo dobbiamo mandare Perché per noi Ci siamo divertiti Moltissimo Scriverlo E lei quindi Tramite diciamo Questo sketch Abbiamo costruito Che lui Aveva tagliato La lingua a Paperino A Paperino Sì 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 Per quello Paperino Paracca Perché gli ha messo Nella mente Era tutta una storia così Guarda Poi te lo mandiamo Fanne ciò che vuoi E io Quest'estate Ho diciamo Visivamente Chiuso una sorta di cerchio Perché sono andato a fare Una serata A Castelvolturno Come no Eravamo in tre Era un tour organizzato Siamo arrivati lì E c'era il bivio Casa di Principio Che è stato il turno E non c'era mai stato Avevo sempre sentito Ovviamente parlare E Cioè Vendo il libro in mano Guardi E dici Ma effettivamente Sono le stesse attrazioni Descritte Nel libro Di Saviano E l'impressione Che ho avuto L'ho detto Anche sul palco È stata Ma cazzo Ma potrebbe essere Rimini qua Cioè vedete 150 metri di spiaggia E si vede Il Vesuvio Con la luna Che cadeva in mare Ma lì Ho detto Sono già stato qua Perché ho visto il film Perché ho letto il libro Il film più della serie Nel senso che I bagni Erano proprio dove Quello è stato impressionante E chiunque I ragazzi venuti da Napoli Che ci dicevano Ma perché avete fatto Qua la serata E noi dicevamo Guarda non lo sappiamo Poi andò molto bene E Ma Veramente strano Cioè veramente strano E sinceramente È stata una situazione In cui ho detto Conosco questo mondo Lo sto rivedendo Lo conosco Mi sembra averne avuto Lo hai visto E lo hai ascoltato L'ho visto L'ho ascoltato E effettivamente È diverso Da molti altri posti In Italia Dove siamo mai stato Non solo esibirmi Anche solo a vedere Mi ha fatto molta impressione Ma potrebbe essere Rimini Eh Cresce un po' diverso No è Castelvolturo Tra l'altro È davvero un mio posto Dell'anima La sua Totale decadenza Ormai Come dire Mi affascina C'è Tutto un Forse è lì Che hai visto C'erano queste torri Normanne Con una piscina Sfatta al centro Sì È un posto Inimmaginabile Garrone non è mai uscito Da lì È vero Perché Ci torni continuamente Per il racconto Persino Dogman È girato lì Nonostante fosse a Roma La vicenda Perché c'è Un mare spettacolare Spiaggia molto larga Pineta marittima Di per sé Cioè Pineta attraversata dal mare Abusi 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 Una traccia di sogno Perché lì doveva essere Un grande parco Per un lusso Da piccola borghesia Infatti negli anni 60 C'era la pubblicità Che diceva È bellissima La pubblicità su YouTube Villaggio Dove la vita È sempre in vacanza E chiedevano ai medici Napoletani Professori napoletani Ai professionisti Di andare a vivere lì 800.000 metri quadri Di abuso Caserma dei carabini Abusivo Ospedale abusivo Tutto compratente abusivo Il giudice che Diciamo Assolse la famiglia Coppola Aveva l'ultimo piano Di proprietà Delle vele Anzi Non erano vele Dei casermoni Sul mare E mio padre Passando da lì Mi diceva sempre Questo commento Che faceva molta tenerezza Diceva Dai scitofoni Di quei palazzi Si sente il mare E Poi ci fu il terremoto La Nato Prese gran parte Di quell'agglomerato E Adesso è tutto distrutto Ci vivono appunto Famiglie africane Spesso non hanno anche il bagno Ed è un posto Dove tu senti Perciò questo è magico Una bellezza incredibile Un sogno caduto Quindi vedi le rovine Post atomico E senti che c'è vita Cioè Nonostante tutto C'è vita E Io ci avevo provato Nel far Provare A fare di Castelvoltur La prima città africana In Italia Perché sono tutti africani Prima città africana in Italia Con sindaco africano Sarebbe stata Sarebbe stato un esperimento Un laboratorio civile Bellissimo Vabbè Adesso ci sarà Un sindaco della Lega Anche lì Anche lì È stato strano È stato strano Dunque Tu inserisci sempre Elementi molto Veritieri Nelle tue narrazioni Anche nella rappresentazione Poi che Sono venute In Gomorra Nella serie Com'è andata invece La collaborazione Con Asalfa Nuca Per Sono ancora vivo Che è il Graphic novel Graphic novel Vero Dair? Non fumetto Graphic novel In realtà sono sempre Graphic novel Fumetto Abbiamo fatto una puntata Recentemente Sulla letteratura Abbiamo discusso molto Che è stato pubblicato Da Bao Qui si parla Della tua vita Sì E potevo farlo solo Col fumetto Perché Altrimenti Ma Innanzitutto c'è Il grande tema Sarò creduto Cioè La cosa più difficile Del dolore Che noi abbiamo È il non essere Creduti O essere sottovalutati E quindi Questo porta vergogna Io non riuscivo Con le parole A raccontare Quello che qui dentro Ci ho messo Quindi il disegno Mi ha aiutato A tematizzare A far uscire fuori E a mettere in fila Tutto quello che è successo Le cose più assurde Rivedendolo Proprio mi sono detto Ma com'è possibile Se è andata così E poi era anche Come dire Una specie di Tentativo Rivolto alle persone Che hanno Un dolore Una ferita Nel cercare di trasformare Quella ferita in feritoia Cioè appunto Attraverso quella ferita Guardare oltre E il fumetto Mi è servito a questo E C'è il racconto Della prima volta Che ho visto Non un corpo Perché quello l'ho visto Che era un po' più grande A terra Ma Un omicidio Il racconto che ero con mio padre A fare la schedina Ricordate Del totocalcio O sei troppo piccoli Per la schedina Il totocalcio Ah Non avevo capito A fare la schedina Certo Che adesso torna Tra l'altro Tornerà Ma veramente Torna la schedina È tutto un grande ritorno Prego scusami E quindi sai La schedina Era un momento bellissimo Con tuo padre Che ti diceva Ramma macchia Non so se a Roma esiste La macchia significa Dammi un risultato impossibile Però se lo ingarriamo È fatta Quindi ne so Juve Como Due No? Allora Quindi lui mi chiedeva sempre Ramma macchia Così A un certo punto Immediatamente Mi gira verso di sé Perché Vede due persone correre E due persone precipitarsi In quel contesto Stiamo parlando Gli anni 80 Cioè 300 mortellano Cifre incredibili Era qualcosa di male E quindi Io non vedo niente In realtà Sento solo Questo trambusto Sento O credo Di ricordare Perché mi è stata raccontata Talmente tante volte Che l'ho ricostruita Un colpo di pistola Quello che mi ricordo È che poi Piano piano La gente esce Da questo tabacchino E che cosa era successo? L'inseguito Cercava Per scappare Di girare continuamente Vicolo Così che Con il nuovo vicolo Magari O entrare in un portone Insomma Non farsi vedere Dall'inseguitore Quindi cosa fa? Gira in un vicolo E si mette sotto una macchina Cosa tipica Si vede mai in un film Ma si fa così spesso Cioè Per non farti beccare Da quello che ti sta seguendo Ti metti sotto una macchina Così quello Gira l'angolo E non ti vede più Solo che questo qui Nel fumetto Asaf lo racconta molto bene E si pisce sotto Quindi lui vede Caccio Lorine Il rivolo Va sotto E gli scarica Un intero caricatore Che io non vedo Questa scena Io vedo semplicemente A cose fatte E E quindi Racconto questo Racconto Racconto Di come è andata Con la mia famiglia Con cui riesco a dire A mia madre A mio padre Mi spiace Non avrei voluto Che andasse così Che è una cosa Difficilissima da dire Dedico il libro Orgogliosamente A mio fratello Che voglio molto Molto bene E inizia col subuteo Perché io E mio fratello Giocavamo sempre col subuteo E il subuteo Ha qualcosa in più Rispetto a giocare Alla playstation O altro Cioè devi Per giocare L'immaginazione Di due persone Deve coincidere Con playstation Non dici mai Facciamo che Siamo Oppure facciamo che Adesso Quel facciamo che L'inizio di una Condivisione creativa Insieme E questo mi aveva Molto Emozionato Ricordando E Tu sei il tifoso Del Napoli Ok Però qui dentro Si c'è tutto questo E' stato anche Un tentativo Anche se non si riesce Mai veramente Di Di dire alla mia famiglia Che ci ho provato A In qualche modo A A far andare Le cose in maniera diversa Però poi sono Stato responsabile Di tutto Perché io Dopo un anno Potevo Dopo un anno Del disastro Mi è stata data La possibilità Potevo andarmi in Islanda O in Svezia Sono paesi che mi ospitarono E sparire E tornare A fare qualsiasi altra cosa Anni dopo Invece no Sono stato in mezzo Avevo proprio Una grande ambizione Di cambiare le cose Rispetto ai miei colleghi Anche se non sei mai creduto A me non mi ha fregato nulla Giuro Né di vendere Né di Prendere premi Ma qualcosa Di ancora più ambizioso E grande Cioè Volevo cambiare Cioè io volevo Adesso mi fa sorridere Cioè faccio un libro E vi spacco Adesso fermo Tutto quello che state combinando Io adesso faccio un libro E i miei colleghi Penseranno alle recensioni Invece no Io voglio che il mondo Si accorga di questo Cioè avevo ambizione E quando E quando però Appunto Nonostante Queste ambizioni Questi intenti Tu Vedi un politico Che magari strumentalizza Una notizia Che è chiaramente Una stronzata Tipo quella Dell'attico a New York E senti dei politici Che dicono Si attaccano Ad una fake news Del genere Per dire Ah ma quello parla Parla ma tanto Quello lì lo fa Soltanto per avere L'attico a New York Quella è una storia assurda Come riesci a relazionarti Con questo tipo di attacchi Ma sai Stai male anche Con gli attacchi Con le condanne giudiziarie Che vengono assurde Le cose più affolli Recentemente per esempio C'è stata quella Per il plagio Che tu scrivi Che poi appunto Il plagio vero Ti toglie la paternità Di un libro Se fosse plagio Invece in quel caso Era una mancata citazione Perché tu in Gomorra avevi citato Dei titoli di giornali Che scrivo Secondo giornali locali E non avevo scritto Secondo cronache di Caserta E Corriere di Caserta Quindi questa roba La paghi Incredibile Poi c'era anche una roba Per cui io descrivo L'arresto di Paolo Di Lauro Quindi dico Sei macchine Due elicotteri Che era una notizia D'agenzia Boom Anche lì dovevi citare E Resti sconvolto Si attaccano A questa roba Dici Ma come cazzo È possibile Ancora di più Perché Perché quei giornali Secondo un'ordinanza Di un giudice di Roma Sono stati considerati Conniventi Con l'ambiente criminale Non solo Ma c'è stato un giornalista A cui voglio molto bene Enzo Palmesano Licenziato In una sentenza Licenziato Da questi giornali Su ordine del boss Vincenzo Lubrano E allora tu dici Ma come L'Italia che mi odia Preferisce Difendere questo mondo Perché odiate? Ma vi alleate Con questo mondo Pur di andare addosso Ma questo è solo uno Dei tanti Sì sì No immagino E questa storia Dell'attico a Manhattan In realtà Nasce da un personaggio Non voglio neanche citare So benissimo chi è Vicino a Nicola Cosentino L'uomo considerato La procura antimafia Di Napoli Il politico Del clan dei Casalesi Con la delega A gestire Sottosegretario All'economia I soldi europei Questo suo uomo In realtà Fa una battuta Sull'attico a Manhattan Ma lui non la fa Per come è stata presa Lui la fa per dire So dove sei Esattamente Il messaggio Era proprio il contrario Lì era un messaggio Come dire Sappiamo Cioè se vogliamo Se vogliamo Vogliamo generico Politico Non criminale Era Sappiamo dove sei Quindi lui diceva Nata Per dire New York Mi ha fotto niente Cosa succede? Questa roba inizia A diffondersi Il gioco del telefono Il gioco del telefono Questa roba detta così Per altre ragioni Anzi Quello aveva pure fastidio A dire Gli ho detto Che questo è riuscito Ad avere una cosa Così importante Avrei voluto dire Meno Ed inizia a dire L'attico a Manhattan E appunto Che io lì Avevo a Brooklyn Quando stavo a New York Non a Manhattan Sopra di me C'erano almeno Altri 20 piani E Sì Era diventata Abbiamo sentito Il ragazzo di Tecno Casa Che ha venduto L'attico A Roberto Saviano Andiamo a intervistare Giovanni Particolarmente Interessato all'open space Mi piace tantissimo Ha preteso la cucina A isola Dentro casa Beh E quella roba Serviva Serviva come sottotesto Importantissimo A innescare L'invidia Nei tuoi Perché la delegittimazione Non è mai A favore Dei tuoi nemici E a favore Dei tuoi amici Quindi tu Per delegittimare Non puoi dire Dice cazzate Non è vero Tu per delegittimare Devi dire Ah tu compri i suoi libri Sai che con i tuoi libri Lui Mica salva la gente In mezzo al mare Lui si prende L'attico Stiamo parlando Di persone Che guadagnano Questi politici Cifre incredibili Partecipazione in società Hanno una vita Assolutamente privilegiata E accusano la persona Che vive del suo lavoro Io vivo solo Del mio lavoro Questa era la rabbia Questi hanno incarichi Prebende Potere Piazzano persone Dove vogliono Hanno gli assistenti Pagati sostanzialmente Dallo Stato E dal partito Io pago il mio lavoro Pago la mia vita Col mio lavoro E lì ti senti Ma cazzo Poi c'era la gente Diceva Ma anche se l'avesse Poverino No no Il mio è un modo per dire Incredibile Cioè Ti stanno addosso E io una volta Siccome sognavo Ma non ce l'ho Un posto in campagna Perché? Perché cazzo Non ne posso più Di case piccole Assediate dai libri Che sono un bibliomane La mia biblioteca È di 10.000 volumi E che tengo sparsi A garage A mia madre Così E allora volevo Un posto in campagna Vado a vedere Una casa in campagna Torno a Roma Agenzia Ma Casa È stata vista Perché loro Vogliono far aumentare Il valore di quella casa Siccome io non l'avevo presa A chiedere È tipo George Clooney Che compra casa Sul lago di Como Praticamente In realtà loro Il Saviano Shire Loro si Loro si Ma poi ho capito Questa roba Spessissimo L'agenzia si inventano Quando poi è vero Gli fai un regalo Cioè Vedi una casa E tu dici Se tu dici sì Zitti E te la vendono Peccato No Loro vogliono Subito far sapere Subito far sapere Che c'era Che ci sei andato tu Perché così il prossimo Comunque Questa se la stava A prendere Il Saviano Poi non l'ha presa Perché È intervenuto un russo A prenderla Che poi ha avuto un guaio E non è potuto venire in Italia Questa è la storia E però Allora È impressionante Come poi queste fake news Fomentino tutto l'odio online Secondo te c'è un antidoto Per l'odio online Per i commenti Per esempio Alice che oggi non c'è Suggeriva di Dare un due tre commenti Al mese gratuiti Se non sbaglio Gli altri dovrebbero essere A pagamento Così il tuo commento Ha un peso Anche economico Sarebbe bello È una bella idea La mia paura Quando ne abbiamo parlato Con lei era Chiunque abbia dei soldi Abbia potere Sguinzaglia Dice ok Voi siete pagati Andate a prenderli E poi la persona Che magari ti vuole bene Non lo spende un euro Per dirti Questo è vero È molto complesso È più facile Che uno che ti vuole perculare Anzi dice ok Io spendo cento euro Così sotto È solo merda Eh sì E comunque ricorda un po' Anche la dinamica di Twitch Dove più spendi Scusa Ricorda un po' la dinamica Di una famosa piattaforma Di una nota piattaforma Sì certo Fanno a canalizzare il loro odio Convogliare lì le energie È tosta Ogni tanto potresti sbagliarla una cosa Fai ogni tanto una cazzata Per cui poi le persone Si attaccano solo a quella Infatti Trapianto di capelli C'hai pensato? Sai che Escriveranno solo di quello Per i prossimi tre anni Staviani Soldi di comorra Per fare Trapianto di capelli Ci si è pagato È stato un grande dolore È una delle cose Che In genere Le persone Non calve Non ci pensano mai E quando si pensa Insomma Alla pelata Si pensa sempre Vabbè Che te frega Dai davvero Sei un narciso così Per cui Non è vero È un dramma gigantesco A lungo studiato Grazie Carmelo Per aver trasformato Questa puntata Perfino che si rideva Si scherzava Si parlava di cose Allegre E adesso E adesso invece Stiamo parlando Del dramma della pelata Il dramma della pelata Ma non esiste È ancora Anche psicologista Fonico e psicologista C'è lo studio di là Ma li hai persi presto? Molto presto Me li sono poi rasati Perché questa Già dal liceo? Si Ormai la mia volta è quella Però tu non hai più Non hai il disegno Il tuo viso Non ti rivedi mai più E quando il pelato Si rivede in foto Con i capelli Guarda Ti riconosci Tu ti ricordi così Magari ti sogni così Certo E nei grandi test Ci sono testi importanti Sulla pelata La domanda è sempre Ma come dannazione È possibile Che abbiamo trapiantato Corpi Sconfitto Delle patologie oncologiche Gravissime E non siamo riusciti A bloccare La caduta di capelli È vero Cioè come è possibile Però il trapianto Ce lo fanno tantissime persone E viene anche bene Adesso si fa Si fa anche quello Con non capelli veri Perché prima ti toglievano I tuoi sotto Mettevano lì Io ormai Mi sento diciamo Abbastanza Dentro Questa pelata Che sa di Per me Come metto nel fumetto Non è come un'armatura È identità Il mio corpo Non lo sento neanche mio Quello che è mio è dentro Diciamo dagli occhi in giù Fuori Anche quando la gente me la tocca È come se non mi appartenesse Non è una cosa particolarmente buona Ma sulla pelata È veramente interessantissima A parte che ci sono ogni anno Leggevo Non so quanti suicidi Sui ragazzini Che poi iniziano a perdere i capelli E sono Come dire Si sentono devastati Adesso è più facile di anni fa Viversi la pelata Perché negli anni 60 La pelata era malattia Cioè Adesso Si teneva il capello Si teneva Si Ti fa il riporto Sui calciatori Negli album di figurine Si vede Quella grande cartina Intorno al sole Dei tempi Anni 60 70 Ragazzi Che già portavano i capelli Facevano quindi Sì riportoni Adesso invece La fierezza Della testa Lasata ci sta Però prima c'era anche il cappello No? La figura dell'uomo Con il cappello Che comunque ti copriva Perdi lo sguardo Infatti spesso Tutti i fotografi Ai pelati Tagliano Tagliano un po' La pelata Proprio dalla fronte La capoccia E Jürg Brinner Non so se vi ricordate Come attore Pazzesco Fu l'unico Che smise i tupele Diventando tra l'altro Anche oggetto erotico Certo Risaltando tantissimo Invece questa pelata Fatta tra l'altro A carne Era lui Era Però dai Ci sono tanti attori Adesso Ma non musicisti Che era un sexy Simbol pelato Ma invece a proposito Di fotografi così Tu rivedi i tuoi interventi? Pochissimo Soprattutto i monologhi Intendo Pochissimo Tendo a guardare Quando Devo fare un montaggio O qualcuno Deve fare un montaggio Per me Tendo a rivedere Mi fido Di quelle due o tre persone Che Anzi due Che Mi dicono Ha funzionato O non ha funzionato E Mi pesa moltissimo Quando nelle trasmissioni Mi costringono il gobbo Ah Mamma mia Perché il gobbo È dovuto al tempo Altrimenti io Non smetto più Preferivo Ma questo succedeva Nella televisione Nel passato Nel passato Vieni via con me Noi facciamo il record Direi tre Lì io avevo Un gobbo Con la vagnetta Che mi dava l'argomento Milano Lega Andrina Perché potevo parlare 20-25 minuti Che avevi cominciato Parlando dei rifiuti Dell'Everest Esatto Quello fu un programma Super evento Una roba pazzesca Pazzesca Ed è lì A un certo punto Adesso invece Tu hai 4 minuti Se non hai il gobbo Rischi che Inizi a rodare Ti piace Ti piace questa profondità Una cosa E noi parliamo sempre Il bello dei podcast Che si può chiacchierare Mentre spesso la radio Soprattutto di flusso Anche se è un ospite Prestigiosissimo Gli devi dare Un secondo e mezzo A noi questa cosa Ci diverte tantissimo Ed eccoci qui Quest'oggi Siamo qui con Roberto Saviano Per parlare Del problema Della criminalità In America Roberto in 30 secondi Ci puoi dire qualcosa Sul problema Da tutta la storia La criminalità In America Dall'800 A oggi Tu dispendi Qualsiasi cosa Tipo dici Sì perché in America La situazione è molto difficile Sei stato fantastico Grazie mille Roberto Ascoltiamogli Imagine Dragons Adesso Posso chiamarti Bobby Hai fatto Il genere di no Fantastico Veramente così Invece podcast E YouTube Certo Permettono il tempo E me ne sono accorto Anche in televisione Cioè in televisione Quando io faccio Il monologone Non è più il posto Cioè Se lo devi fare Fallo su YouTube Fallo su YouTube Cioè Quello che ti dicono È ok Qui vieni E fai Raffica Sì poi Le trasmissioni Sono come le metropolitane Arriva Scendi Dici la cosa Riprendi il treno E scagli un'altra E arrivi da un'altra parte È vero Cioè Però Io non ho proprio Quel talento lì Proprio l'idea Di Di non prendermi Anche questo tono blues E non sono io Cazzo Quindi Non è il mio tempo Più La televisione Cambiata in questo modo È spaventosa Sebbene In Germania Quel programma tedesco Il cuore di un autore tedesco Sarebbe stato una meraviglia E noi veramente Ti invitiamo Come prossimo progetto A ripensarci Roberto Perché saremo felicissimi Di vederlo Davvero Davvero Devi stare Splendio Ma immagino avremmo parlato di Tipo Si sarebbero presentate Queste persone Dicendo Io amo Zola E ho visto Un tuo intervento Su Dante Quando ne hai parlato Che devo dire Mi ha parlato Sarebbero 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 Ma le ragazze parlavano italiano? Tedesco Ah quindi Un traduttore per loro? Tedesco E non erano solo ragazze Cioè non c'era limite d'età Ah donne Di tutta l'età La cosa era corteggiare Non era proprio come Uomini e donne Era una dinamica simile Era Scegli le persone Più interessanti per te Sono quelle che vorrei Tra quelle che vorrebbero Uscire con te E si doveva parlare Solo di letteratura Filosofia Quindi le persone Veramente si presentavano così Tipo Ciao Sono Hannet Adoro Proust Zola E leggo spesso Dopolino Non capivano il rischio Di Con un italiano Grandissimo Autore Tutto quanto Ma pur sempre Un italiano Di mettere questo discorso Sì a me non interessa Così voglio parlare di te Pericolosissimo Fare questo programma Pericolosissimo Pericolosissimo Ma secondo me Primo o poi Accadrà 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 E potrebbe avere No non con me Ma accadrà Abbiamo dato un'idea Alla televisione italiana Perché no Eh dai Pensiamoci Eh dai Noi Noi lo aspettiamo Noi ci auguriamo Di vederti presto Anche lì Ma ci manca solo questo Quautori Quautori È un plagio Ma come al solito Ci infiliamo Assolutamente Grazie mille davvero Grazie mille Roberto Per essere stato con noi Ricordiamo Sono ancora vivo Scritto da Roberto Saviano E Asaf Anuka Che l'ha disegnato Per Bao Noi ci risentiamo Per la prossima puntata Di Cashmere Grazie a Tahir Grazie a Carmelo Ciao Grazie a Alice Che non c'era E grazie Cecilia Grazie Ciao Ciao E forse a Napoli Ah no Come? Il bip Tahir Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti